È stata una decisione sofferta quella di chiudere l'oratorio perché a me fa piacere che i ragazzi possano sempre venire in parrocchia e penso che la parrocchia sia sempre meglio di altri luoghi. Arriva però un momento, ed è capitato già diverse volte in questi anni in cui sono parroco, in cui bisogna dare dei segnali. Quando si bestemmia in continuazione, poi parliamo di ragazzi tra i 8 e i 13 anni, l'immondizia lasciata ovunque e senza rispetto e poi atteggiamenti rispettosi verso chiunque, verso i vicini della parrocchia, verso il territorio, verso gli operatori pastorali, verso la chiesa che comunque li ospita. È anche un gesto di poca attenzione questo. E poi la parrocchia che continuamente si impegna anche per tenere l'oratorio pulito, sistemato. Abbiamo appena comprato due nuove porte da calcio. Insomma, in qualche modo cerchiamo di essere vicini ai ragazzi, ma ne otteniamo poi questi atteggiamenti. La cosa che sottolineo è proprio la totale assenza degli adulti, dei genitori, dei volontari, di persone che vogliono veramente stare a disposizione dei ragazzi. E questo secondo me è la cosa più importante, perché si pensa che basti solo il luogo. Invece c'è bisogno di persone, c'è bisogno di adulti che possano stare accanto ai nostri giovani. Una cosa che poi sottolineo e che mi ha fatto riflettere questo, può sembrare una stupidaggia, una cosa banale. Eppure dico, sono stati educati a rispetto a dei luoghi, dell'ambiente, di non buttare carte a terra, plastica, vetro. Eppure la cosa che un po' ha fatto anche in me scattare proprio questa delusione è il fatto che si butta l'immondizio ovunque. E allora mi dico, ma allora a scuola, in famiglia, il rispetto di un campo da calcio, di una parrocchia, cioè mi chiedo qual è il significato delle cose che insegniamo ai nostri ragazzi. E se veramente i nostri ragazzi ci tengono a tenere pulito un luogo dove vivono, qual è il senso di civiltà che c'è. Insomma, i sentimenti di adesso sono rabbia certamente, ma soprattutto di delusione, perché mi dico qual è la direzione dove stiamo andando.